Il corso è dedicato alla Flipped Classroom, vedremo innanzitutto di quale metodologia si parla. Sta diventando negli ultimi anni una prassi molto diffusa, quella della didattica capovolta, classe capovolta. È una pratica che viene da molti salutata come una grandissima novità e per certi aspetti lo è. Tuttavia è anche onesto dire che molti docenti, più o meno consapevolmente, negli ultimi anni, anche senza tecnologie, hanno adoperato questa pratica. Vediamo cosa sia. Il nome vuol dire didattica capovolta. In realtà è capovolto il modo con cui vengono proposti i contenuti, piuttosto che una didattica realmente capovolta. Perché si prende in considerazione il fatto che nella didattica tradizionale l'insegnante spiega e poi assegna dei compiti per casa agli studenti. Questa è un'immagine in realtà anche estremamente semplificata, se vogliamo anche superata, però è anche indubitabile che in molti casi, per molti docenti, questa sia ancora una didattica completamente frontale che riserva l'esercizio per quanto riguarda l'impegno domestico ed eventualmente lo verifica nelle lezioni successive. Fibret Classroom interviene essenzialmente su questo. Si capovolge questo aspetto, vale a dire si danno a dei ragazzi dei piccoli contenuti essenziali da studiare a casa tramite video, tramite pagine del libro o video anche prodotti agli stessi insegnanti e si fa in modo che gli esercizi che normalmente vengono svolti a casa si svolgano insieme in classe. Il tempo da dedicare agli esercizi viene in qualche modo liberato da quella fase di spiegazione che viene demandata a dei video didattici che il docente assegna per lo studio domestico agli studenti. In questo modo effettivamente si libera del tempo da dedicare all'esercizio in classe e magari anche all'esercizio di gruppo. Come fare Flipped Classroom a scuola in un contesto come quello italiano? Occorre innanzitutto predisporre dei materiali che sostituiscano la spiegazione del docente. Questo è l'aspetto anche più discutibile, più critico, perché molti docenti effettivamente a buon diritto sostengono che la spiegazione non è più ormai solo frontale e che già nella spiegazione c'è l'interazione con gli studenti. Questo è indubbiamente vero per molti docenti ma è altrettanto vero che non è sempre così per tutti. Quindi l'idea è quella di isolare i due o tre concetti chiave, fare in modo che questi concetti siano in qualche modo studiati, appresi, perlomeno nelle linee essenziali, a casa dagli studenti. Poi il giorno successivo o i giorni successivi questi contenuti si riprendono in modo molto breve però molto conciso in classe, proprio perché questa spiegazione è avvenuta tramite questo materiale multimediale che è dato a casa. E poi ci si esercita, questo è l'aspetto effettivamente più interessante, ci si esercita in classe insieme sui contenuti appresi. In questo modo il docente è a casa, è vicino agli studenti nel momento in cui svolgono gli esercizi, cioè nel momento in cui effettivamente hanno forse più bisogno dell'aiuto del docente ed è anche ciò che non è possibile in una didattica come quella italiana che presuppone quasi sempre l'esercizio a casa. Quali sono i vantaggi? Questa metodologia dal momento che favorisce in classe un apprendere facendo, il cosiddetto learning by doing, effettivamente coinvolge di più gli studenti anche se bisogna dare per scontato, cosa che non sempre è presente, che non tutti a casa possono disporre di una connessione internet tramite la quale vedere i contenuti multimediali che sostituiscono la spiegazione del docente. Un altro vantaggio è che, e questo è innegabile, c'è più tempo per l'applicazione pratica e per fare in modo che il docente aiuti gli studenti nell'atto dell'applicare le regole, i contenuti. E questo è appunto un aspetto innegabile della Flippia de Classroom, non che nella didattica tradizionale non ci sia, ma la Flippia de Classroom tenta di dedicare più tempo a questo aspetto, mette questo aspetto al centro della didattica. Poi un altro vantaggio è il lavoro di gruppo, questo nel caso in cui il docente voglia lavorare in gruppo non è detto che avvenga sempre. Flippia de Classroom non è sinonimo di lavoro di gruppo, ma è fortemente consigliato, perché forse è più efficace. E naturalmente un vantaggio è anche quello, è un invito alla responsabilizzazione da parte degli studenti. Questo perché nell'ipotesi in cui gli studenti non consultino affatto i materiali multimediali forniti dal docente, forniti o addirittura creati dal docente, è chiaro che tali studenti si troveranno quasi sempre nell'impossibilità di realizzare l'esercizio in classe proposto dall'insegnante. Cosa impareremo nel corso dedicato al Flippia de Classroom? Innanzitutto a creare per i docenti più esperti o anche semplicemente a reperire dei video didattici. Ormai YouTube e molte altre piattaforme hanno tantissimo materiale anche in italiano, migliaia e migliaia di video, alcuni anche molto ben fatti, magari da colleghi o semplicemente da aziende che producono contenuti. Quindi impareremo a reperire questi video didattici che fungono da spiegazione. Peraltro se ci rivolgiamo a video in lingua inglese si apre un mondo pressoché sterminato di spiegazioni di ogni livello, sia di quello più base che quello universitario. Poi impareremo anche, nell'ipotesi che questi video vengano realizzati da noi, anche a caricare dei materiali online. Video non vuol dire necessariamente che il docente riprenda se stesso, vuol dire anche che il docente con un microfono commenti un PowerPoint che possiede, che ha scritto, che ha trovato o che è a corredo del libro. Quindi video non vuol dire per forza registrazione del volto, della presenza fisica del docente, può essere necessaria anche solo la voce o addirittura anche un PowerPoint semplice e chiaro. Quindi impareremo come caricare questi materiali online, vedremo anche come effettuare delle esercitazioni in aule, questo è l'aspetto più interessante. Possono essere svolte su cartaceo, ma naturalmente noi vedremo soprattutto l'aspetto del cloud, cioè sviluppare queste esercitazioni tramite piattaforme collaborative e per questo naturalmente servono anche delle aule adatte allo scopo, quindi vale a dire con la connessione ad internet. E poi vedremo anche, per fare tutto questo, come usare degli strumenti didattici innovativi che sono ormai sempre più spesso dei siti web che offrono specifiche potenzialità. Per esempio quelli legati a dei video. Ci sono dei siti web che consentono di bloccare determinati video didattici in determinati punti ed effettuare in quei punti delle domande a cui i ragazzi devono rispondere. Questo è uno dei tanti usi più o meno innovativi della didattica multimediale applicata ai video. Cosa è necessaria per fare Flipped Classroom? Naturalmente un PC fisso, un portatile, un tablet, una connessione a internet. Questo dal punto di vista del corso. Naturalmente anche lato scuola sarebbe interessante poter disporre di laboratori. Questo è nell'ipotesi che le esercitazioni in classe vengano svolte su elettronico. In alternativa è possibile anche far esercitare i ragazzi in maniera tradizionale su materiali cartacei. Gli strumenti online sono ormai molto numerosi per la Flipped Classroom. Noi vedremo videonotes e videoscribe.com, che sono dei siti che consentono di commentare vocalmente dei documenti a nostra disposizione. Questo proprio per creare dei video di spiegazione. Vedremo gli strumenti del cloud, cioè dove caricare fisicamente questi file da far scaricare ai ragazzi. E vedremo anche gli strumenti per fare esercizio come Questbase, Google Moduli o Zoke, una piattaforma collaborativa simile a Google Documenti. Numero di incontri, qui si parla di 9-12 ore, 12 sono indicate a un gruppo di docenti relativamente meno esperto. Il numero di incontri varia da 3 a 4.